380 nuovi contagi, troppi, benché su 2.585 tamponi fatti, cifra anche questa da primato. È vero, non sono tutti lucani, i positivi sono 326, ma se continua così, il 3 dicembre prossimo la Basilicata potrebbe colorarsi di rosso, finire cioè nella fascia nazionale più a rischio, in controtendenza rispetto alle altre regioni. I residenti attualmente positivi sono 5.689, 5.513 dei quali in isolamento domiciliare. Si aggiorna purtroppo l'elenco delle vittime, ora sono 131 dopo il decesso di un uomo di Potenza, uno di Calvello e di una donna di Matera. 50 le guarigioni, 46 di co-regionali, mentre cala da 179 a 176 il numero dei ricoverati totali. Torna a salire peraltro il numero dei ricoveri nelle terapie intensive, più 3 adesso sono 22, 12 al San Carlo, 10 al Madonna delle Grazie. Potenza e Matera sono tra i comuni più colpiti nelle ultime ore, rispettivamente con 49 e 26 casi, tanto che il presidente della regione Vito Bardi lancia l'SOS al commissario straordinario per l'emergenza Domenico Arcuri. Si faccia anche nei due capoluoghi lo screening di massa come in Alto Adige. A preoccupare sono però anche altri comuni, Lavello con 30 nuovi contagi, Ferrandina con 29, Policoro con 19 e ancora i 15 a Lauria, 12 a Pisticci, 11 a Palazzo San Gervasio. In prefettura a Potenza, focus stamani sulla situazione alla FCA di Melfi, 3 nuovi casi e 103 positivi. I sindacati chiedono tamponi a tappeto tra i lavoratori. In corso in tal senso un approfondimento tra aziende e sigle di categoria a livello centrale, fa sapere il prefetto Vardè. Carmine Vaccaro, segretario regionale Will, pensionati, denuncia infine gestione dell'emergenza fallimentare con gli anziani vittime predestinate, già più di 200 travolti dalla seconda ondata.